Il mio t-shirt Come si chiama questo? Allora, questa è una stampa di grande 70 che si chiama Capri è una stampa chiamata Winter Capri Winter Capri che ho stato stampato e fuori è stato ritinto che è un nuovo processo che ho fatto con tutte le stampe che ho ripreso questa volta di ritingere il capo in colore dei gradi, un po' di infusione non so come si dice in livelli italiani Infusione L'illusione C'è pure il valore Perfetto